È intollerabile che le atrocità siano ancora perpetrate contro i civili. Dopo gli ultimi attacchi militari a Damasco e ad OMS da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, il Consiglio Ecumenico delle Chiese in Siria ieri ha rilanciato un appello per la pace nel paese. Attraverso una dichiarazione scritta è tornata a chiedere un cessate il fuoco immediato, l'accesso umanitario incondizionato a tutte le regioni della Siria, a cercare la pace attraverso il dialogo e un processo politico piuttosto che attraverso la forza armata. A sette anni dall'inizio della guerra in Siria, le comunità cristiane hanno anche assicurato che continueranno ad avere nella regione un ruolo importante da svolgere nella guarigione delle memorie ferite e nel riunire tutti i siriani in una narrazione comune per preservare la ricca diversità della Siria e il ripristino della coesione sociale. L'appello per la pace arriva a cinque giorni dal quinto anniversario del sequestro dei due vescovi metropoliti di Aleppo, il siro ortodosso Mar Gregorios Ioanna Ibrahim e il greco ortodosso Bulos Yatsighi. Dei due vescovi rapiti il 22 aprile 2013 finora sono solo trapelate indiscrezioni sul luogo della loro prigionia o sulla loro liberazione, notizie rivelatesi infondate. Per il loro rilasso 400 giovani hanno marciato ad Aleppo il 27 marzo 2016, domenica di Pasqua. In favore della pace in Siria... Anche Papa Francesco ha levato la sua voce per la loro liberazione, per la liberazione di tutti i civili in Siria e per la liberazione del gesuita italiano padre Paolo Dall'Oglio, inghiottito nelle tenebre di Racca nella notte tra il 28 e il 29 luglio 2013. Secondo i dati forniti nel marzo scorso dalle Nazioni Unite, a causa della guerra 5 milioni e 600 mila siriani sono rifugiati all'estero, mentre gli sfollati interni sono 6 milioni e mezzo.